bella raga e bentornati sul nostro canale io sono papi e oggi su squad busters andiamo a livellare nuovi personaggi a livello ultra infatti raga guardate con tanto sudore della fronte giocando tante partite e lavorandoci su siamo riusciti ad arrivare a 10 di 10 goblin classici che ci permettono di ottenere il primo goblin ultra quindi adesso lo livelliamo insieme e sblocchiamo il nostro primo goblin ultra che attenzione raga a livello ultra aumenta a 10 le monete che può dare vedete da 7 normali adesso ne da 10 quindi io direi di fare subito una partita perché altrimenti ci scade qua la lobby dove c'è il goblin e venite va anche benissimo perché a parte greg fornitore abbiamo il mercante e proviamo a giocare con il goblin che non picco quasi mai ma adesso che a livello ultra sono curioso di vedere cosa riesce a dare ovviamente vediamo se riusciamo anche affonderlo quindi mi sto sacrificando questa partita sperando di non rompere la striscia iniziamo con con che cosa vediamo prendiamoci b voi direte perché non è preso il mercante papi sì in effetti potevo anche prendere il mercante però prendiamoci b che magari ci fa un po di danni se riusciamo a trovare la petta che anche qua vicino prendiamoci il goblin però prima di prendere il goblin vediamo se riusciamo a aprire un altro baule qua ne ho perse 10 ma ce lo facciamo fuso e siamo a 28 monete non male direi adesso che possiamo andare avanti con il team buldato quindi vediamo prendiamoci il mercante proviamo a fare un team che dite raga soltanto goblin e mercante vediamo che succede abbiamo un altro goblin vediamo se riusciamo a aprirci subito la cassa adesso prendiamoci prendiamoci mercante torniamo indietro ok raga non è una tattica ad effettuare in una partita normale io sto facendo delle prove l'ideale sarebbe farlo in guerra di cloni che comunque we switch a personaggi in effetti adesso io ho tantissimi goblin non so cosa farne perché ho comunque 19 monete devo vedere di aprire un altro baule adesso siamo a 22 apriamoci che facciamo ma ma dai raga facciamo così un altro goblin è una partita pazza questa solo perché abbiamo il goblin raga comunque con due mercanti ci siamo presi e queste monete no questo è un player attivo io direi di buttare il ghiaccio e scappare ma raga siamo decimi facendo una partita ridicola no no allora ora vediamo di giocare un po seriamente perché troppi goblin e anche no direi vediamo se riusciamo a fare un po di danni perché stiamo messi veramente male allora vediamo un po switchiamo e ci prendiamo l'arciere vedete essendo decimi il gioco mi sta pushando delle fusioni che io ovviamente ho preso in maniera abbastanza scarsa l'arcerina non è che sia poi chissà che cosa va bene vediamo di fare un po di danni qua uccidere qualcuno abbiamo ancora un minuto e mezzo e più per andare avanti ovviamente c'era anche il modificatore che spa unava gemme qui al centro quindi anche per questo sto indietro però vediamo se riusciamo a recuperare mi intrattengo qui al centro mi servirebbero anche degli stivali della velocità e vediamo se riesco a prendere o cavolo solo senza stivali quasi si avvicinano mi sciottano raga che è questo ma questo è un personaggio morto si può qualcuno che non sta giocando l'ho ucciso perfetto ma non l'ho ucciso io ecco l'ho ucciso un altro porca miseria peccato mi sarebbe piaciuto fantastico una bea fusa però abbiamo po no lascia mistero no no questo è un player attivo che abbiamo perso tutte le apine ci abbiamo quante b non lo so no ma tutti qui siete da vi prego ma che partita sto facendo raga prendiamoci ancora b2 apine ecco qua sto pagando la striscia come se non ci fosse domani ma perché mi dai nita ma dammi un epico decente raga devo cercare assolutamente di rimanere al centro e prendere un po di gemme diciamo che non ho avuto il modificatore ideale per testare comunque il goblin però diciamo che dieci monete a inizio partita se non avete un farmer non è neanche male vediamo cosa riusciamo a fare siamo ottavi attenzione che siamo settimi prendiamoci maxin che ci dà la velocità no 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 non ci devono sciottare nessuno o scappa papi siamo settimi 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 dai dai spavano un po di gemera che scappo 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 prendo queste scappo sesto dai fammi fare quinto fammi fare quinto dai che ce la posso fare fammi fare quinto fammi fare quinto no 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 quinto attenzione ma che stiamo dicendo di cosa stiamo parlando ho fatto quinto all'ultimo in una partita abbastanza ridicola abbiamo anche un altro personaggio che è molto più utile e possiamo fare a livello ultra per la prima volta quindi tutto col sudore delle mie partite giocate e abbiamo il barbaro ultra che nella sua specialità a quattro stelle si infuria dopo aver annientato un nemico questa cosa la voglio proprio testare in game in un prossimo video perché quando andremo a uccidere un player automaticamente si attiverà la furia non la super furia che quella sarà disponibile soltanto quando avremo quattro stelle il barbarian king cosa molto complicata per il momento e questo però raga oltre ad averci portato a livello 140 un'altra reazione epica ci dà la possibilità di ritirare il nono baule stellare allora raga parliamoci chiaro quando mancano due bauli e uno dei due è sicuramente quattro stelle al 50 per cento la probabilità che sia quattro stelle o più ma non pensiamo al cinque stelle adesso se il ventinovesimo baule non è quattro stelle raga sono assolutamente scriptati perché io non posso credere che devo arrivare a 30 bauli per avere sempre al decimo quindi alla decina il baule con l'epico garantito vediamo che cos'è vediamo un po' raga questo mi rimane super è rimasto super raga scriptatissimo ma di cosa stiamo parlando però comunque ci ha dato una evoluzione super comune di un personaggio che ci servirebbe anche e stiamo parlando dell'arcerina che è ancora indietro ed è indietrissimo a 5 di 10 però raga io veramente vorrei fare un discorso qua squad buster sta già molto indietro non dico che sta per morire perché è un gioco in versione global quindi spero che facciano qualcosa già dal prossimo aggiornamento per tirare se un po le sorti di questo gioco ma se tu mi dai questo il prossimo baule garantito sempre al decimo e c'è qualcosa che non va a meno che avete scriptato il gameplay e l'account di papi io non so come è possibile ma nel prossimo video allora raga farò il possibile per arrivare a 500 gettoni token in modo tale da aprire questo sicuramente garantito 4 stelle prendiamoci i 100 biglietti stile che vi ricordo per una settimana quindi ancora fino a domenica vi garantiscono fino a mille ticket stile ma per il momento raga adesso è tutto fatemi sapere nei commenti quali sono i vostri personaggi ultra guardate quanto è bello il barbarozzo ultra finalmente lo vedremo con il mantello noi ci vediamo in un prossimo video e ciao